E' un tasso, un tasso! E' stato prima era finito! Non lo vengo, non lo vengo! Che cazzo, non lo vengo! Oh, un po' Un po' questa foglia! Aspetta che devo capire ora tante cose, vinto Vinto, vinto! Moltissimo, ultimo Stampport Picchiamo tutto e prende la trappola, eh! Lo so per questa trappola Vabbè, anche con Stampport Che cos'è? Un giallone Allora, il link mi fa fare una anomale in più aggiuntiva, non è attrazione in festo Ok, è sempre stretto Sì, sempre Quando entra Locato ha da un posto Stampport E accimi te non puoi fare un altro rischio Sì, io Ma è normale Ma è normale Sì, lo vuoi?! No, no, perché Giochi in Maxi Combo e mi tirano il Maxi G in faccia E' come dire che è brutto, giochi Maxi Combo e mi tirano Maxi C in faccia Di me, di me Di me, no perri, dai, che falle Dario, tu non sei niente Gioca in Maxi Combo e mi tirano Maxi C in faccia Che schifo che fa' fatto Per questa persona che ti ha un'altra Maxi C in servizio, capisci Che schifo C'ho di tre Maxi C in tre pa' chi? Sei sei io Io mi sarei puramente ritorno Quanto è cazzo? Uno Vedici c'è sta minga Passi, fatta stop Ma che stop dici che puoi tributare se tu puoi tributare in qualcuno? Sì, però non lo so Certo Si fa c'è la Stanford Hater Eh, ora, 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 ora Ora mi metto in cuore Ah, aspetta Tutti i mosti link Quando vengono mandati a cintena Mi evocare la mano Tutti Quando vengono mandati a cintena Specialmente Sì Lei ha gava cose Tanta magia Quanto è rigante Sant'Eruzalia Fatale Quando pesco queste cose le emozioni Le emozioni Le emozioni la smodificazione Sì, posso spammarli finchè nel marzo lo faccio? L'ora la volta per turno, eh, c'ho, anche dalla marzo Sì, non devo tributare l'ora 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 Betto, ecco dal marzo Betto ha questo padre, in questo caso voi, io ti fatele dal buro Sì, sì, sì No, già, spagnali Trebatto Attacco di San Gerino Attacco di San Gerino Attacco di San Gerino Attacco di San Gerino Alla cosa invece distruttano Alla, così come ti distruttano Tchettino, eh Ti pare che hanno rotto un Francisco E no, ma non trovi, ma non posso, passare il Francisco Basco e Berisara Salos Basco e Berisara Salos Posso evocare special quando viene distrutto o un vostro albergo di numero 4 inferiore perché si è riuscito a dire atto Quando avete evocare un manuale speciale posso aggiungerti il vostro e anche il vostro albergo di senso solo Dandiamo a fatturre e mandandolo al cellulare Mando al cellulare Mando al cellulare Mando al cellulare Mando al cellulare Perfetto Scartolo il mostro E' un altro in mano Mando al cellulare Orme Perfetto Il suo fatto Si Perfetto Il mio constro O dalla mano Abbiamo Lai Ko Angelo Sto cercando di essere più veloce possibile, però giuro. Sto cercando di essere più veloce. Sto cercando di essere più veloce possibile. No, pago in tutto 3.000 quando finisco. Quando finisco pago 3.000. No, sei 2.500. Sto cercando di essere più veloce possibile. 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 Sto cercando di essere più veloce possibile.